8 novembre 1888 viene trovato il corpo dell'ultima vittima accertata di Jack lo squartatore si tratta di Mary Jane Kelly, una prostituta come tutte le altre 5 donne uccise brutalmente dal serial killer londinese il primo efferato delitto risale al 31 agosto 1888 il primo efferato delitto risale al 31 agosto 1888